Se pensiamo agli effetti positivi finite le sessioni, cioè come sentivi dopo? Spesso viene detto che ti senti più leggero. Te se dovessi descriverti come sarebbe? Io in realtà ero super contenta perché ero contenta di mettere mani in un mondo che avevo una stanza, soprattutto che non avevo un po' di difficoltà sulle quali mettere mani, perché appunto avevo mille carte. Durante la pandemia avevo cercato di mettere sotto sopra e fare un po' di ordine e quindi avevo fatto mucchietti di fogli A4, anche per terra, perché la mia creatività si è strana anche per terra. E quindi in realtà mi sono sentita soddisfatta, nel senso che ero riuscita a mettere mano e soprattutto quando mi ha dato la chiave di come fare il primo passo, ecco procede per piccoli passi, questa cosa mi ha reso veramente soddisfatta. Più che leggerita, proprio soddisfatta. Eh ma si sente che oggi proprio con soddisfatta, proprio. Sì, soddisfatta perché sapevo che era questo quello che volevo fare, cioè quando, cioè sapevo che volevo diventare più ordinata e raggiungere tanti diversi progetti che avevo insomma un po' bloccato. Sì, soddisfatta.